Ci troviamo al FAMART, Premio Internazionale d'Arte, che si sta attualmente svolgendo a Cadi Cararesi, a Treviso. Abbiamo di fronte a noi due belle opere dell'artista Nenè Molai, opere veramente singolari in quanto sono legni intagliati, anzi sono delle tavole fra di loro assemblate e poi intagliate. L'artista quindi ha voluto infondere a queste opere anche un forte senso di laboriosità, con lo scalpello ha incavato, ha tolto materiale per far emergere questi elementi floreali, questi elementi naturali che arricchiscono l'opera di una dimensione piacevole. All'interno, ed è forse una, si potrebbe definire una sorta di novità, troviamo delle rappresentazioni pittoriche. Qui, oltre alla dimensione scultorea, c'è anche la dimensione pittorica. Il titolo appunto, punti di viaggio, ci fa vagare con la mente. Siamo noi quindi, anche in questo caso, da veri interpretare che cosa significhi questo quadro, questa macchia di pittura che si trova all'interno del dipinto. Per l'artista può rappresentare un determinato momento della sua vita che l'ha voluto inserire all'interno di questa cornice intagliata, nella quale ben si mescolano, ben si fondono la dimensione scultorea, tridimensionale e la dimensione pittorica. Stessa cosa la possiamo ritrovare in quest'altra opera, seppur di piccolo formato, dal titolo Buongiorno Primavera. Un'opera fresca, piacevole, gentile. Appunto, i colori che l'artista ha saputo porre sulle foglie, al centro di girasoli magistralmente tagliati, ci danno questa immagine di primavera e al centro un tocco d'azzurro, forse una spiaggia o un... e al centro un tocco d'azzurro, come vorrei richiamare l'azzurro dal mare.